Cresce sempre di più in Sicilia la paura per il caso Morbillo, una vera e propria psicosi, quella causata dagli ultimi decessi che hanno coinvolto la regione. Un tema che non deve generare allarmismo, ma che certamente non può essere sottovalutato, ha già chiarito il sindaco Enso Bianco. E sulla questione che diventa sempre più importante interviene anche il professore, infettivologo ordinario dell'Università di Catania, Bruno Cacopardo, che spiega perché l'epidemia vede protagonista la Sicilia. La gestione si è fondata su tre elementi importanti, che sono primo il dimensionamento dell'evento. L'evento è la coda conclusiva di una grossa epidemia che dal nord Italia si è propagata verso il sud Italia, proprio seguendo una traiettoria nord-sud, un gradiente nord-sud ben preciso. Quindi quello che si sta verificando in questo momento da noi è lo specchio di quanto si è già verificato altrove. E non differisce né come numero di casi, né come incidenza di mortalità, né come numero di morte. Il secondo elemento di cui si è discusso è come gestire l'evento epidemico. L'evento epidemico va gestito in due maniere. Primo il contenimento della propagazione dell'infezione da virus morbilloso. Questo si fa con la prevenzione. La prevenzione è fondata sulla identificazione dei soggetti suscettibili, cioè di chi ha rischi di contrarre il morbillo. Quindi screening. Il secondo elemento è la vaccinazione, quindi potenziamento delle procedure di vaccinazione che vanno estese non solo ai bambini, per i quali peraltro sono obbligatori, ma anche agli adulti. Perché, e qua andiamo al terzo elemento, c'è anche l'aspetto gestionale della malattia in atto.